buongiorno oh cavolo di nuovo questi sfigati giù dal letto ora posso dormire è ora di lavarsi i denti buongiorno Mabel anche Angelo si lava i denti la mattina devono essere splendenti whoops il mio spazzolino Angelo stavi sfregando troppo dai a Demone un po' di dentifricio dovrò usare le mie ali mi laverò i denti con le piume ehi non c'è più dentifricio perché finisce sempre quando devo usarlo io che mattina sfortunata tanti auguri Demone questo è per te tu ami il tabasco è caldo come gli inferi grazie lo adoro ed ecco il mio regalo marmellata divina oh grazie di solito tutti spengono le canderine ma il Demone invece la accende tieni aggiungiamo un po' di pepe Demone è tutto tuo grazie la marmellata divina è andata di traverso aspetta Demone ti aiuto che schifo ecco come tratti il mio regalo centro ragazzi mi avete stufata il mio piano Mabel? oh scusa fatemi uscire ma quanti siete? la mia ala non spingete ho fame un hot dog ottimo buon appetito a me e io? prendi il cibo dal frigo ok ai è così fresco anch'io lo voglio dammelo Demone no è mio ai ecco l'hot dog è rovinato addio Wurzel grazie per avermi rovinato il pranzo Angelo questa sarà la mia torta speciale gli ospiti impazziranno adoro cucinare ecco fatto sei quasi pronta tesoro ora devo solo cuocerti Angelo Demone attenti alla torta che non bruci capito? tenetela d'occhio certo chef guardare una torta è così noioso senti questo odore Demone brucia qualcosa da dove viene il fumo? oh no il forno è una tragedia non possiamo salvarla Mabel guarda ci siamo presi cura della torta si è bruciata appena in tempo grazie assistenti non mi capisci me ne vado ai ops mi dispiace ben fatto cameriere il mio ordine un bel problema Angioletto dovrei metterti a dieta ops che c'è Demone? troppo sale? goditi il piatto Mabel ciao giochi a nascondino con noi? per favore ok va bene andate a nascondervi uno due tre quattro cinque dove mi nascondo? Demone sei già qui cerca un posto diverso il frigo anche qui chiudi la porta dove? peccato Angelo bene e ora cerca il Demone ti do un indizio è nel frigo c'è solo cibo qui bugiardo Angelo ciao wow sei già qui bel lavoro allora come scendo? aiuto ehi ragazzi chi ha intasato di nuovo il lavandino confessate no no non siamo stati noi Demone tocca a te pulire dai avanti che schifo è una palude arrivata al blocco sono piume ora so chi è stato Angelo mentre Mabel è al lavoro Angelo e Demone si rilassano oh fammi scrivere anch'io voglio fare carriera Angelo vattene ai sei scortese mi hai fatto male non lo farò più cos'è questo rumore? Demone ascolti ancora l'heavy metal? dammi le cuffie subito hey non posso lavorare così cos'ha che non va? andiamo ai avrò messo tutto in valigia controlliamo di nuovo oh che fortuna aggiungeremo un po' di cose Mabel dovrebbe portare tutto al posto nostro questo è importante qualcos'altro? nasconditi arriva ecco fatto dovrei avere tutto posso andare anche se questa borsa non si abbina al vestito perché ci mette tanto a prepararsi? ah Mabel finalmente è uscita cosa? ha preso uno zaino e la nostra borsa beh almeno possiamo ascoltare la musica ops Mabel ci mette un sacco ad asciugarsi i capelli ciao Mabel ho così tanti capelli e proprio nella mia pizza ah 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 che schifo ora li ho in faccia non sono buoni per niente salve ho un'emergenza di trucco oh certo siediti sveglieremo la tua bellezza sorridi oh mi fai il solletico che cos'è? non importa continuiamo bella sei stupenda incipiamo il viso e ciù oh che libido guarda dove colpisci truccatrice un po' di fissante uops bottiglia sbagliata colpa mia scusa è terribile la mia torta ahi la torta sta bene amo la torta grazie Angelo sei così premuroso ahi la mia torta chi ha rovesciato il tè? sai Angelo ho cambiato idea riprenditi la torta ce l'hai tu Demone oggi mi sento generoso Mabel aspetta un ragazzo ma è in ritardo ciao Mabel questo è per te oh che bella rosa non è per te siediti ahi che bel fiore Demone che caduta elegante stai zitto Angelo Angelo Demone venite qui ho un regalo per voi oh grazie Mabel adoro la coca ah mi sta schizzando la coca cola mi ha attaccato ah ah fregato Angelo prenderò le patatine le patatine con la farina sono uno scherzo classico ci sei cascata Demone ragazzi siete dei perdenti ti sono piaciuti i nostri maldestri Angelo e Demone? scrivi qui sotto se vorresti avere i tuoi Angelo e Demone e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le nuove esilaranti storie di Troom Troom ciao